Buongiorno, buongiorno alle sette in questa ennesima straordinaria del Tg1 per dirvi che cosa accade questo nono giorno di guerra. Allora, alcune notizie chiave. Nella notte, nella tarda serata, è stata oggetto di combattimento il sito, la centrale nucleare di Zaporizia, che è a sud-est di Kiev. Stiamo vedendo le immagini di questo attacco. Un attacco dopo il quale è scoppiato un grande incendio nella centrale. C'è stata immediata anche la reazione degli ucraini, che però hanno avuto problemi anche ad intervenire nel domare, nel gestire l'incendio nella centrale. Evidentemente quelle che stiamo vedendo insieme sono le immagini dell'attacco riprese dalle telecamere di sorveglianza. Zaporizia è sostanzialmente la maggiore, la più grande installazione nucleare dell'Ucraina. è il luogo su cui a questo punto sono puntati gli occhi di tutto il mondo. La vedete dove abbiamo messo scendendo verso il fiume a sud-est, proprio poco più a sud di Dnipro, da dove in questi giorni si sono sempre collegate le nostre inviate. Vedete lì il simbolino nucleare. Devo dire un simbolo che fa impressione, vedere su una cartina, aggettivi che non avremmo pensato certamente di usare nel 2022, l'idea di parlare di una centrale nucleare sotto attacco con rischi evidenti. Partiamo però dalle notizie perché mi sembra importante non costruire un allarme che in questo momento non c'è. Il fuoco, l'incendio nella centrale nucleare di cui continuiamo a vedere le immagini, lo chiedo alla regia di tenermele accanto così ci si rende conto di che cosa è accaduto. L'incendio è stato domato. I livelli di radioattività che vengono monitorati in ogni istante sono assolutamente nella norma e sotto controllo. È evidente che quello che è successo questa notte è fonte di una immensa paura. L'idea che la più grande centrale nucleare ucraina sia sotto attacco è per tutti una fonte di immensa paura. E allora vi faccio un rapido riassunto di dove siamo all'inizio di questa nona giornata di guerra e poi iniziamo con i nostri inviati sul campo, i nostri corrispondenti e i nostri ospiti a cercare di dare un senso alle notizie che ci arrivano dall'Ucraina. Dicevo dunque la centrale bombardata e poi Mariupol sotto assedio con una richiesta sempre più forte di assistenza internazionale. Ieri i colloqui, i negoziati che sostanzialmente chiedo alla regia partiamo dopo con il giro delle immagini altrimenti diventa estremamente complesso seguirci da casa. Quindi abbiamo detto centrale nucleare, Mariupol sotto assedio, molte delle città del sud dell'Ucraina, questa cintura sud che dà sul mare che riportano di danni sempre più consistenti e di attacchi sempre più feroci con le navi russe che sono a vista proprio in questo momento a largo di Odessa. Intanto ieri giornata di negoziati, negoziati che si è capito non hanno portato a nulla sul piano della prospettiva del conflitto e hanno portato a un piccolo, comunque importantissimo risultato per chi in questo momento sta vivendo nelle città assediate. Se questo risultato venisse messo in pratica si sarebbe trovato un accordo almeno per aprire alcuni piccoli, limitati corridoi umanitari che significa far affluire aiuto per la popolazione e far uscire coloro che cercano di fuggire. E intanto più di un milione di persone, più di un milione di rifugiati hanno già lasciato in questo momento l'Ucraina. Ma allora direi andiamo a vedere di nuovo le nostre immagini. Intanto con Susanna Lemma vi daremo qua in studio gli aggiornamenti. Buongiorno Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana di Cesa. Buongiorno Paolo Magri, vicepresidente dell'ISPI. Allora, da qui ripartiamo. Andiamo intanto a vedere anche le immagini della notte della capitale ucraina, Kiev, questa notte. Questo è il centro di Kiev nella notte, con le sirene che continuano a risuonare. E poi, poco più a nord, anzi a nord di Kiev, verso il confine con la Bielorussia, la distruzione di Cernyhev a nord, al confine, dicevo, con la Bielorussia. Ci si è risvegliati così, con interi quartieri distrutti, con le case in fiamme, con i feriti portati fuori dagli edifici. È il risveglio di una delle città in queste ore sotto l'assalto, sotto l'attacco russo. E poi, dall'estremo nord, scendiamo sulla cartina fino all'estremo sud, fino a Odessa. Scendiamo dunque completamente a sud, fino allo sbocco sul Mar Nero. E queste sono le immagini sulla spiaggia di Odessa, dove le persone preparano sacchi di sabbia come a bloccare una possibile invasione e là, sullo sfondo, piazzate le navi russe a largo. Questa è la spiaggia di Odessa, che si prepara anche qui a un attacco, a un'invasione russa. Guardate l'impressione che fanno queste persone sulla spiaggia, queste persone che recuperano i sacchi di sabbia. Abbiamo continuato a guardare queste immagini perché tenere insieme l'idea dell'attacco alla centrale e le immagini delle persone che cercano di organizzarsi in qualsiasi modo per respingere questo attacco è veramente il risveglio più impressionante di tutti.